Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Nelle nuove puntate di My On My Destiny, presto in onda su canale 5, Zeynep scopre che Benal è incinta. Come si comporterà Mehdi con la sua ex amante? Ecco le anticipazioni. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle nuove puntate di My On My Destiny, la SOP in onda su canale 5. Le trame provenienti dalla Turchia parlano chiaro, Zeynep e Mehdi accantoneranno l'idea di divorziare per il bene della giovane Kibrit. Mentre avviano le pratiche d'affidamento per la bambina, così da toglierla dalla casa famiglia in cui è finita a seguito dell'arresto del Caraca, Benal avrà il potere di mettere fine alla nascente relazione con una notizia bomba. La donna è incinta di Mehdi e, dopo aver trovato sostegno da Zeynep, alla quale non ha raccontato tutta la verità sulla gravidanza, ricatterà la sorella del suo ex amante per riaverlo al suo fianco il primo possibile. Mehdi esce di prigione nelle nuove puntate di My On My Destiny. Accusato di aver sfruttato due minori nella sua officina, Mehdi è finito in prigione poco dopo aver chiesto a Zeynep di firmare l'annullamento del matrimonio, avendo scoperto le bugie della Gosco. Quest'ultima, tuttavia, avendo compreso che Mehdi ha assunto Kibrit e Ali per dar loro un tetto sulla testa, essendo orfani e minorenni, si è lasciata intenerire dalla storia e ha deciso di aiutare il marito. Kibrit, ancora minorenne, rischia di finire nel tunnel delle adozioni ed è disperata, dal momento che ha sempre considerato Mehdi come una figura paterna. Per fortuna, anche grazie all'aiuto di Zeynep, il giudice riconosce la buona fede del meccanico e lo scagiona da ogni accusa. Mehdi esce dunque di prigione e Zeynep lo sorprende, facendogli una richiesta senza precedenti. Per aiutare Kibrit loro dovranno rimanere sposati e avviare le pratiche della richiesta di affidamento. Il Karaka, sebbene scioccato dalla decisione della moglie, coglierà l'occasione per riavvicinarsi e per aiutare la sua giovanissima aiutante meccanico. Mentre Zelia e Sakine saranno felici della decisione, i due padri della Gosco si mostreranno decisamente contrariati. Anticipazioni mai on my destiny, Ekrem traditore, Mehdi sotto shock. Mentre Zelia e Sakine sembreranno felici per la decisione di Zeynep e Mehdi, dato che in questo modo i figli rimarranno sposati e non disonoreranno la famiglia con il divorzio, Ekrem e Nermin si opporranno con forza, cercando di far ragionare la figlia adottiva. È così che verrà a galla il segreto di Ekrem, che sconvolgerà Mehdi, e lo porterà a sua volta a scoprire cosa nasconde il ricco e potente uomo. Nel frattempo, Zeynep e il Karaka si comportano come due sposini modello, per far sì che l'assistente sociale affidi loro Kibrit. La visita che determina la riuscita del loro progetto, tuttavia, sarà totalmente mandata all'aria da Bayram che, ancora una volta si ubriacherà in pieno giorno. L'assistente sociale, sapendo che la minorenne vivrà con questo uomo che ha evidentemente problemi di alcol, per non parlare degli scatti di violenza che nessuno osa nominare, segnalerà la questione nel fascicolo ufficiale per l'affidamento. Come se non fosse abbasta, entrerà in quel momento in gioco Benal che, incinta di Mehdi, coinvolgerà l'inconsapevole Zeynep in un malvagio piano per riavere indietro le attenzioni del suo ex amante. My own my destiny anticipazioni, Benal incinta, vuole tornare con Mehdi. Nelle nuove puntate di My own my destiny, Benal scoprirà di essere incinta dopo un test di gravidanza e il padre è Mehdi. L'ex amante del Caraca è sconsolata e, sebbene sappia che è lei il motivo della separazione, si troverà ad appoggiarsi a Zeynep che, ignara di tutto, le offrirà una spalla su cui piangere. Benal racconterà a Lagosco di voler abortire, poiché il figlio è frutto della relazione con un uomo sposato e Zeynep, sebbene contrariata, accetterà di accompagnarla in clinica per non lasciarla sola in un momento così delicato. Qui, a pochi minuti dal raschiamento, Zeynep si confiderà con Benal e le dirà di non aver ancora consumato il matrimonio con Mehdi, riaccendendo nell'amante la speranza di poter tornare nelle grazie del Caraca. Così, la donna rinuncerà all'operazione e tornerà di corsa nel quartiere, contattando la sorella di Mehdi per costringerla con un ricatto ad aiutarla. Cosa farà Mehdi quando scoprirà che la sua ex amante è incinta? Un bambino potrebbe certamente cambiare tutto, nonostante il meccanico provi un forte sentimento per Zeynep. My On My Destiny, anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto. Mehdi scopre il segreto di Ekrem. My On My Destiny continua su Canale 5 dalle ore 15 e 45. Ecco cosa accadrà negli episodi dal 31 luglio al 4 agosto. La sop turca vede come protagonista Dimetos Demir e si appresta a conquistare i telespettatori. Ecco cosa aspettarsi dalle prime puntate. Prosegue la messa della nuova sop del daytime di Canale 5, My On My Destiny. Annunciata da alcune settimane, la serie riporta sul piccolo schermo nostrano il popolare volto di Dimetos Demir, che il pubblico ha imparato a conoscere nel ruolo di Sanem in Daydreamer Le Ali del Sogno. La serie è costituita da 43 puntate della durata di oltre due ore ciascuna, suddivise in due stagioni, la prima da 12 episodi e la seconda da 31. In Italia, ciascuna delle puntate sarà suddivisa in ulteriori parti, per un totale di 39 episodi per il primo capitolo, e 99 per il secondo. Di seguito, ecco cosa aspettarsi dagli appuntamenti, in onda dal 31 luglio al 4 agosto. My On My Destiny, anticipazioni degli episodi in onda fino al 4 agosto. Nella puntata di lunedì 31 luglio, dopo essere stato liberato, Medi si convincerà del fatto che Zeynep stia con lui solo per pietà. L'uomo crede che lei lo lascerà per andare con Faruk a Londra. L'uomo, però, ignora che Lagosco abbia rifiutato la proposta dell'ex. E dal canto suo, lei non glielo farà capire in alcun modo. Per questo motivo, quando la protagonista chiederà al marito di avviare le pratiche di adozione di Kibrit, attualmente in una casa famiglia, lui rifiuterà. Nuo ed Emine proveranno a riavvicinare la coppia, organizzando una serata in un locale e accadrà qualcosa di inaspettato, Medi beccherà Ekrem, padre adottivo di Zeynep, con un'altra donna. Intanto a non far notare alla moglie ciò che sta accadendo nel locale, Medi si troverà ad affrontare un uomo. Quest'ultimo proverà a rubare i soldi a un bambino indifeso, di fronte al suo comportamento in quella situazione, Lagosco inizierà a provare qualcosa di positivo per lui. Nell'episodio di martedì 1 agosto, Benalla tutti i sintomi di una gravidanza e deciderà di sottoporsi a un test. I sospetti si riveleranno fondati, l'ex amante di Medi è incinta. Intanto, a casa di Zelia si festeggerà la decisione di Medi e Zeynep di adottare Kibrit. Il meccanico ha cambiato idea dopo aver capito che la moglie non voglia lasciarlo per Farouk. Il momento di festa per la ritrovata sintonia tra i coniugi sarà interrotto dall'arrivo di Benal, Zeynep non sa chi sia, a dispetto degli altri, e la tratterà come un'amica. Mujgan, intanto, proverà ad allontanare i due coniugi, e Farouk proverà ad avere informazioni su Zeynep, tramite Emine. Medi scopre una verità sconvolgente sul padre adottivo di Zeynep. Mai o mai Destiny proseguirà con la puntata di mercoledì 2 agosto. Bayram sarà colto da un momento di malinconia, ripensando al suo comportamento del passato. Intanto, Medi e Zeynep sembrano pronti a vivere la propria intimità, a cominciare dal trascorrere la notte insieme nello stesso letto. Nel frattempo, Nermin ed Ekrem non appoggeranno la decisione della figlia adottiva e proveranno a metterle i bastoni fra le ruote. Intanto, Zeynep, dopo la notte trascorsa con Medi, preparerà la colazione, e allestirà la casa in attesa della visita dell'assistente sociale per l'adozione di Kibrit. Nell'episodio di giovedì 3 agosto, a casa Caraca è tutto pronto per la visita dell'assistente sociale, che solo in seguito a esito positivo potrà decidere se dare il via libera alle pratiche. Tutto sembra andare per il verso giusto, fino a quando Bayram arriverà completamente ubriaco. L'assistente sociale porterà con sé la bambina e farà rapporto di quanto accaduto. Zeynep si scontrerà con il padre biologico e gli dirà tutto ciò che pensa di lui. In seguito, Benal ripenserà alla storia con Medi e si avvicinerà a sua moglie ma non le dirà nulla sulla paternità della creatura che porta in grembo. Anzi, confesserà alla Goscu di voler abortire. Pur essendo contraria a questa decisione, deciderà di aiutarla. Nella puntata di venerdì 4 agosto, all'ospedale in cui deciderà di abortire, Benal scoprirà diversi intrighi. Poco prima di eseguire la procedura, scoprirà che Medi e Zeynep non hanno consumato e inizierà a pensare di avere qualche possibilità di riconquistare il meccanico. Intanto quest'ultimo, dopo aver scoperto che è stato Ekrema a denunciarlo, deciderà di capire come mai lo abbia visto avvindiato a un'altra donna. L'uomo non risponderà e Medi si troverà costretto a seguirlo fino in ospedale, facendo una scoperta sconcertante. Il padre adottivo di Zeynep ha un amante e una figlia segreta. Non potrà però farsi vedere sotto shock dal momento che in ospedale incontrerà la moglie e Benal, che non diranno cosa stiano facendo lì. Al contempo, dopo aver esagerato con l'alcol, Byram sverrà vicino ai binari del treno. Le vicende di My On My Destiny stanno diventando sempre più avvincenti, vero? Iscrivetevi subito al canale per non perdervi nulla di questa storia affascinante. Grazie, a presto!